Start, 2, 1, initial mission and liftoff! Riuscirà, sarà diviso in tre parti, la prima parte costerà 6 euro e per le altre diciamo sono in corso delle valutazioni perché sono in sviluppo e diventeranno sempre più complesse ed è un gioco che si promette essere un viaggio emozionale in temi abbastanza complessi come il lutto e la solitudine. Il gioco nasce come una dedica al padre di Jacopo ed è un gioco dove saremo, vivremo i sogni, gli incubi insomma di un uomo finito in coma. Giochi come questo mi ricordano quello che è stato To The Moon ad esempio così come tanti altri c'è un viaggio dove si paga il biglietto appunto dell'esperienza che si va a vivere sarà fatto a enigmi, a puzzle insomma lo proviamo non ve lo farò vedere a lungo nel senso che è una demo voglio che ve la godiate anche voi insomma però il gioco è anche in italiano giustamente oltre che in mi pare in spagnolo, inglese, un'altra lingua insomma. Qua è un tutorial che mi mostra come muovermi sia col pad che con la tastiera possiamo interagire andare indietro, pausa, muovere la camera ok niente di troppo complicato. Ok un po' forse vediamo se la diminuiamo un pochino la sensibilità perché mi fa questo movimento della testa che è molto smooth e che ci sta nel movimento della testa. E qua vediamo intorno alla grafica che mi ricorda. Ah ha i Dernier un pochino. E ci sono delle scritte. Trova la via. Il suo nome a Oeva. Vediamo se si può aprire. Sì secondo me cercherò di darvi il salto. Dato che nei giochi vi do sempre il mal di mare come dite cercherò di andare piano. Pausa. E qua c'è una mappa. Oh oh. Qua dentro c'è qualcosa. C'è qualcosa. Interagisci. Ok tutorial. Raggiungi la freccia rossa con la pedia dentro il numero di mosse. Vast per il movimento. Prendi il tasto reset per il... Ok. Quindi praticamente dobbiamo... Ah 81 mosse. Quindi dobbiamo uscire da questa zona che sembra non essere troppo complicato fare in questo momento. Vediamo se la facciamo. Ok. Non mi calcola. Ce la facciamo? Forse sì dai. Ci abbiamo fatta? No! Perché no? Riproviamo ma tanto adesso qua non rischiamo niente. Riproviamo di nuovo. Ho sbagliato. Mannaggia me. Ho sbagliato. Ok. Ce l'ho fatta. Scusate. Allora. L'abbiamo aperto. Guardate si vede già un quadro. Vediamo un po'. Ma soprattutto ho visto il quadro lì nella sala. Con la famiglia. Possiamo interagire. Interagisci. Ok. C'è un... C'è anche una scritta qui. Mi ritrovo in una stanza che mi sembra stranamente familiare. C'è qualcosa di evocativo nell'atmosfera. Ma allo stesso tempo mi sento confuso. E lì, al centro della stanza, c'è di nuovo quella bambina. La sua immagine è sfocata, come se fosse avvolta in una nebbia sottile. La sua presenza mi inquieta e mi fa interrogare sul significato di tutto questo. Chi è lei e perché continua a comparire nella mia mente? Cosa rappresenta questo strano sogno? È come se ci fosse un messaggio nascosto, qualcosa che la mia mente cerca di farmi comprendere. Ma ogni tentativo di focalizzare l'immagine della bambina si dissolve nel nulla, lasciandomi con solo più domande. Questa sfocatura, questo enigma intorno alla bambina, mi spinge a cercare risposte. Sento che è un tassello importante di tutto il mistero che mi circonda. Forse scoprire la sua vera identità potrebbe aprirmi la strada verso la comprensione di questo sogno bizzarro. Ok. La porta si può aprire? Come ho detto, è un viaggio. È un viaggio come può essere anche Edith Finch, come è stato Edith Finch, a dei giochi emozionali. Una sorta di lettore qui. E forse c'è anche qualche indizio qui per aprire. Perché sembrano essere tre numeri. Tre numeri. Ma non voglio andare a caso. Sono quattro numeri in realtà. E quindi cercheremo di capire. Vediamo, diamo un'occhiata intorno se c'è ancora qualcosa che possiamo scoprire. Possiamo interagire col quadro. A, D, N. Ok. Carina questa cosa, mi piace molto. Allora, 18, 11, questa foto. Allora, vediamo. Eh, devo vedere. Perché là c'è il triangolo. Triangolo, stella e cerchio. Vediamo. Triangolo, stella e cerchio. Bisogna capire qual è il numero. Allora. A logica potrebbe essere che la stella e il cerchio danno 15, quindi sono due numeri opposti. Ipotizzo. La stella potrebbe valere 7. e il cerchio 8. 7, 8. Quindi 7, 8. A logica la stellina vale 3. E il triangolo vale 3. Perché 7 più 8. In alto 7 più 8, 15. Più 3, 18. Quindi 3 più... Ecco, la riga sotto. 3 più 3, 6. più 7. 3 più 3, 6. Più 7. No. 3, 18. No. Quindi dobbiamo diminuire. Vediamo un attimo. Potremmo fare l'inverso. 3 più 3, 6. Più 8. No. È più bassa. È più bassa. È più bassa. Potremmo fare 5 e 10. 5, la stella è 10. Ok. 5 e 10. Quindi 5, 10, 15. Beh, sappiamo per certo che il triangolo vale 3. Ok, risolto già in anticipo. Il triangolo vale 3. Perché comunque la somma all'inizio è sempre comunque 18 e i 2 sono 15. Quindi vale 3. 3 più 3, 6. 3 più 3, 6. E più 5. La stella è 5. 5 e il cerchio è 10. Ok. Quindi il triangolo 3. Il triangolo 3. 3, 5 e 10. 3, 5 e 10. Perfetto. Abbiamo risolto. Ci ho messo anche un po' più del dovuto. 3, 5 e 10. Quindi proviamo se funziona. 3, 5, 10. Allora, 3, 5, 10. Perfetto. Abbiamo trovato un'altra scritta. Perché si è voltato? Interagisci. La nebbia dei ricordi si dirada finalmente. La bambina sfocata a un nome è mia figlia Judith. Le immagini del nostro passato tornano lentamente alla luce. I suoi occhi luminosi. I lunghi capelli biondi che danzano al vento. Il calore del suo abbraccio. Mi domando il motivo della sua apparizione in questo strano sogno avvolta nell'ublio. La connessione tra lei e il mistero di questo luogo surreale diventa più chiara. Sento gioia e tristezza nel ricordare il nostro legame. Ma questa stanza misteriosa sembra ancora dividerci. Continuerò a cercare, a ricordare e a svelare i segreti di questo sogno nella speranza di riunirmi e Judith. insieme troveremo la via d'uscita da questo enigma. Perfetto. Quindi praticamente io ipotizzo da quello che mi è stato detto vive in questo stato di coma quest'uomo ma rivive quello che ha passato con la figlia immagino perché lui è qui seduto sul divano lei scrive canta una canzone qua c'è sola paura sola paura questa è la scuola qui c'è un foglio ricordo questa scuola o è la mia mente che continua a farmi strani scherzi c'è una bambina nella mia memoria una bambina bionda dai capelli luminosi come il sole la sua immagine si affaccia nella mia mente ma il suo nome sfugge alla mia memoria chi è lei come è collegata a tutto questo mi sforzo di richiamare i dettagli ma è come cercare di afferrare una nebbia sottile non riesco a ricordare nulla di significativo su di lei solo il riflesso della sua figura nella mia mente mi chiedo se sia collegata a questo posto se sia un indizio o solo un'illusione forse è una guida nascosta tra le pieghe di questo mistero qualcuno che può svegliare la verità su ciò che sta accadendo mi piacciono molto queste cose così emozionali e dico la verità nella scuola non si può entrare probabilmente quello scritto lo dovevo leggere prima perché adesso il mistero è già mezzo chiarito cioè nel senso penso sia penso sia la figlia a questo punto si può andare sul retro però oh c'è uno scritto anche là però intanto diamo un'occhiata cosa c'è qua dietro ok ci si arriva esattamente come prima mi volto pian piano per non questo parco evoca emozioni particolari un sogno surreale gli alberi frondosi si stagliano contro un cielo vivido mentre strane sculture a forma di pedine degli scacchi emergono tra il verde meraviglia e stranimento mi avvolgono la mente mentre cammino tra i sentieri di ciottoli mentre le pedine degli scacchi sembrano prendere vita proprio ogni tanto sento il vento sussurrare melodie misteriose attraverso il loro design intricato i colori sono vividi i profumi avvolgenti non so se sia il profumo dei fiori o solo il profumo del mistero che alleggia nell'aria mi chiedo se questo parco sia solo frutto della mia immaginazione o se sia davvero reale o se è un luogo magico in cui le regole nel mondo ordinario non si applicano più perfetto allora siamo arrivati qui non so dove andare non so cosa fare cosa potrebbe succedere quello che è stato detto è che i capitoli 2 e 3 che arriveranno dopo saranno ancora più profondi e andranno a chiarire la storia questo è la vera essenza di un progetto indie come nasce da un'idea di due amici un tributo a una persona quindi secondo me sarà da da tenerlo d'occhio e comunque uscirà a fine ottobre da quello che ho visto con il capitolo 1 qua c'è qualcos'altro però torna trovala c'è una scritta anche qui che forse è una delle prime scritte che dovremmo vedere sono perso in un sogno oscuro e confuso non riesco a ricordare nulla di quello che è successo mi sento come se stessi lottando contro un'oscurità insondabile cercando di trovare una via d'uscita da questo sogno senza fine il tempo qui è incerto la confusione mi attanaglia ma rimango determinato a cercare una risposta spero di trovare un indizio un segno che mi conduca alla verità nascosta di questo luogo enigmatico forse c'è un messaggio nascosto tra le pieghe di questo sogno e una chiave per risvegliarmi è una dura lotta anche questa ha bisogno di te torna trovala eh sì in toni drammatici ci sono tutti magari è interagibile anche questo interagisci di chi? perché non riesco a ricordare? mi viene in mente che potrebbe essere Judith l'unico nome che con la U come secondo direi che potrebbe essere quello però direi che siamo giunti al limite dello spoiler insomma ok abbiamo aperto il portale è musica molto bella devo dire ma anche il fondale qua sarà senz'altro da tenere d'occhio eccoli lì the endless dream il sogno infinito bene non so se effettivamente ci fosse un indizio per capire il nome ma l'ho capito da dalla U come seconda lettera bene la demo alla fine non volevo spoilerarvela l'abbiamo finita ma era proprio veloce veloce ma è una demo è una demo gratuita e uscirà il primo episodio quindi penso fino a ottobre da quello che ho visto voi vedrete il video magari dopo ma spero vi piaccia l'idea apprezzo sempre molto queste idee indie nate in un garage alla fine come si dice politicamente fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate e io ringrazio ancora lo sviluppatore per avermi contattato e per avermi chiesto di portare il loro gioco alla prossima e ciao ciao